Amici di Tresmundiani, ti ci smunto rapido, rapido, prima che vado in balestra, amici, Morrison è naturalmente di nuovo in pericolo, censura, chiusura canale, lui non deve evitare la chiusura del canale perché ha ricevuto un altro strike, ha già subito rimosso tutti i video dal canale principale Morrison perché oggi ha fatto una diretta, guardate un po', aveva postato qui la live che poi l'abbiamo seguita sull'altro canale YouTube, io l'ho seguita sull'altro canale YouTube e l'ho messa anche in onda qui su Tresmundo numero 6 su questo canale che ancora non è stata cancellata però su questo canale e poi anche su Facebook è andata in onda senza censura, cioè non è stata censurata, però qui sul canale principale di 121.000 iscritti è stato censurato, guardate, questo video non è disponibile al pubblico. E naturalmente tutti gli altri video che poco fa li avevo fatti vedere, cioè naturalmente sarà che Morrison, la redazione, li avrà già cancellati tutti perché già avendo forse il secondo strike, perché uno gliel'avevano dato con il video del di... di dedano, come si chiamava? Il dedimero, il dedimero, aveva fatto un video dove parlava di invitare la gente che si è fatto la puntura di farsi il dedimero, che gli è stato, diciamo, cancellato questo video con uno strike e la diretta di oggi con un altro strike. Onde evitare che subisca il terzo strike e la chiusura definitiva di questo canale, che è una pena perdere 121.000 iscritti, allora sicuramente avrà cancellato tutti i video. Ora userà il canale, questo di qui, che forse fino ad ora non ha subito nessuna censura. Questo qua di 17.000 iscritti. Però è strano che questa diretta non la cancella. Io gli consiglio di cancellarla, perché potrebbero dare anche un altro strike. Però vabbè, fin quando non dà uno strike, la può lasciare in considerazione. Perché dice, come mai? La può lasciare. Ragazzi, funziona così. La censura, anche perché ho visto io, questo video qui, parla di iniziare ad armarsi, parla di iniziare in caso di guerra, fare tipo la guerra, insomma, sicuramente l'avranno censurato per estricazione alla violenza. Ma non è che stava dicendo qualcosa di male, però funziona così, funziona così. Morrison ha sbagliato. Deve fare questi video sulla piattaforma, sulla piattaforma. E qui, su YouTube, usarlo solo per mandarli. Però lo capisco, lo capisco che l'adrenalina di fare queste cose qua... Sbaglia, sbaglia. Deve fare i video con i server suoi, usando anche un'altra piattaforma, per fare le live. Però su numerosei.org, se vuole fare una live su YouTube, non deve assolutamente parlare di quello che stava parlando. Perché sennò, crea danni, crea danni. Adesso, qui sul canale, ha dovuto cancellare tutti gli altri video. Cioè, sicuramente cancellarli, su questo canale qui, Morrison, sicuramente li ha cancellati. Perché, avendo altri video, YouTube magari si inventa... aveva a vedere su un video qualche altro errore. Da un altro strike, al terzo strike, cancella il canale. Solidarietà a Morrison. Arrivederci alla prossima, ragazzi. Chiudiamo la diretta. Vado ad allenarmi.